relax oggi è domenica amato questa quindi me la prendo proprio comodo pure quaseria del natale ma che userò per rilassarmi subito dopo la sigla allora ben ritrovato oggi cerco vedere un tono molto pagato perché proprio me la voglio proprio godere me la voglio gustare me la voglio rilassare tanto ben ritrovato sul canale e tanto gioso che ti addormenterei questo video andiamo a giornare calendario oggi il 19 dicembre guarda che ho ritrovato volantino pubblicitario rigorosamente vintage quindi allora 19 19 19 domenica eccolo qua quindi si avvicina il natale e sta alle porte ormai sta a bussa a tutti quanti allora guarda che ti faccio vedere che cosa uso appunto per godermi un attimo sto momento mio di relax guarda un po spero di non addormentarmi neanche io perché sinceramente c'ho un po paura sai quasi dorme poco la notte allora oggi vado con baby smooth perché perché mi è piacevole mi è conforto sì anche di conforto ma riesco a farmi una bella barba come dico io c'è chi ha detto che magari non è troppo profondo sì però la fa gustare l'importante che tagosti allora come ben vedi c'ho il fine platinum logicamente abbinato col suo dopo e dopo glori quindi oggi pre barbino ci metto nonostante ciò i fine siano per me molto scorrevoli allora non può mancare il mio sapphire eccolo qua evo che bello l'acqua un po troppo calda per quello non ce l'ho messo a mollo a parte che poi ripeto come dico sempre il sintetico a mollo anche no anche no allora sciacqua il viso vengo da te così intanto mette malamettina eccetera eccetera voglio proprio rilassare oggi che devo fare lo sai che c'è stava bene magari una musichetta tipo chill out rilassante il rumore dell'acqua queste cose domenica allora baby baby smooth rasorock alluminio è leggerissimo sto rasoio vada un po' di gilettine oggi vado delle gilette che non so male come la mettine speriamo che non fa danni non mi sembra che sì qualche piccola bollicina ce l'ho avuta sti giorni c'ho avuto il viso secchissimo ieri sera un po' del balsamo ce l'ho messo perché sai il freddo è micidiale sul viso sofferto un pochettino ultimamente quindi l'ho idratato in qualche maniera ho cercato di idratarlo in qualche maniera ma allora e sta c'era maleditta la c'era maleditta la c'era è un macello allora devo mantenere un tono basso luca ricordate perché sennò poi strilli più capita dopo un po' capita ti è aspetta è rilassante c'è un profilo proprio di quelli che dici aspetta che metti a fuoco un profilo di quelli proprio che ti mette ad agio sì sì è più scena che altro allora immancabile colpo di tosse dopo un glory quanto ne metto poco poco non me ne serve il quintale vedi già è pure tanto ma ha detto vabbè moji ma voglio prendere un comodo mi rilasso perché questo tipo di rasatura è rilassante io ancora sto combattendo contro lo stereotipo che ci si mette una vita a farsi una barba così non è vero normale guardo il video tuo mi dici c'è stata mezz'ora ma io chiacchiero a che c'entra se dovessi fare un video nel quale mi è rato soltanto senza di nulla ci metto pochissimo ma volete dai su senti il rumore dell'acqua che bellezza ma sta registrando troppo basso il tono perché io me sto a preoccupare vedo ora con le poco basso va bene così oggi allora perché il platinum perché ha la profumazione che si ispira a creed da ventus è qualcosa di micidiale bello elegante mascolino virile tutto è veramente tutto tutto allora stavolta non metto l'acqua dentro ma bagno il pennellino lo strizzo ecco qua e vado a fare i classici giri vediamo un po' la magia la magia senti che profumo veramente spaziale sto coso micidiale vado che è sti rumori molesti che sento ogni tanto non mi esplode il pc con il quale sto registrando oggi è solo gusto lo sto andando a piano perché ci ho pure la tempata a cambio e tutto già ieri sera anzi l'altro ieri sera mi è capitato che ho dovuto mettere la candela per terra perché l'ho dovuta sposta un attimo mio figlio lorenzo ha fatto un verso strano sembrava quasi che si è stata strozzata quando ha decorsato non caccia la candela a me la cera è andata a fine a parte tutta per terra ma anche sulla mia tuta quindi sono uno che si impatacca facilmente si però dai io tu un po' di vigore perché te lo sa dormivo qua e c'hai ragione pure tu te l'ho appena detto te l'ho appena detto pensa un po' acqua ma quanta sete c'hai raggiuntami quando mi sveglio la mattina sono riuscito addirittura un giorno a bere mezzo litro non ti dico appena svegliato un giro di mezz'ora peggio da me questo allora vado tra il profumo che scusa tipo quando porti al collano allora baby smut è un mazzito il video a me la via la meraviglia 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 ma è per neofi questo rasoio volendosi che è facilissimo cerco di ri allenare la mia parte sinistra che da un po' che non la faccio lavorare quindi ho bisogno di dare una svegliata a mezz'ora ma il tempo chi ce l'ha, chi non ce l'ho io ce l'ho, cioè nel senso molto limitato però ce l'ho quando mi do prendere cura di me stesso lo faccio un po' di acquetta voi un'acqua mamma mia stanno queste profumazioni che poi durante il periodo anche natalizio acquisiscono un valore aggiunto che è veramente qualcosa di favoloso cioè sogna d'occhi aperti vai un po' e che mai vittessi in corpo senti rumori strani lo stomaco pensa a male solita rogna qua purtroppo io che c'ho una vertigine anziché con la sua sicurezza riesco un po' a ma va a passare sta storia la parte più rognosa è il mento dai su se la ventano però ma sai devo far riposare un pochetto di più la pelle la do cura un po' di più perché la sento veramente stressata ma questo non va bene ma questo non va bene chi è che scrive qui se continua vedi qua cioè non mi ha proprio cicatrizzato se apre sempre vieni a metterci i cadreni zona mento è macella tutti i raseggi usati in vita mia zona mento state vedendo che non ci riesci vabbè pure questa la sono portata a casa pure qua ma mi sono gustato qualmente mi cambia la vita aspetta mi raccomando l'acqua a fine rasatura sempre fritta che ti chiude i pori questa parte qua mi è maleditta proprio vedi mazza che danno come fanno guarda ho una serie di qui siccome me cresce in questa direzione ho sempre problemi a tira via quello che devo tira via e purtroppo aspetta non posso c'ho il faretto non mi cascate prego non mi cascate vediamo un po' se c'è la magia se c'è la magia fermato subito matita emostatica l'unica difetto da matita emostatica è te fare quella patina un po' fastidiosa quindi devi sciacqua a parecchie volte beh io direi che si è conclusa bene il rasoietto si comporta bene è normale che la pizzicatina ci può sta c'è pure sta come non ci può sta però l'inverno io soffro tantissimo il viso che si secca quindi ho bisogno di idratarlo tanto e in teoria avrei dovuto mettere adesso il balsamo ma essendo innamorato fortemente dell'after shave voglio mettere questo però è consigliabile io ti consiglio ti metto un bel balsamino ma pure così il giorno dopo la rasatura perché idrati sempre di più questo è freddo che fa non è che faccia chissà che cosa però il viso ne risente ne risente tantissimo soprattutto perché magari fai casa lavoro che ne so scooter a piedi e entri magari al lavoro quindi sta a caldo poi riesce a prendere freddo e dai sbalzi termici insomma ci fanno sto giochetto brutto soprattutto a me mamma mia eccoci qua quindi addirittura con tutto con tutto il discorso alcolico dell'after shave a matita emostatica ha fermato completamente il piccolo sanguinamento ci dovrebbe riaprire perché l'alcol comunque tende a a fatto uscire più sangue cicatrizza ancora boh ancora c'è sto a spera che che ci abbia appunto sta proprietà ma ho sempre notato che dopo dove una rasatura se ti sei fatto qualche micro sgranatura metti l'after a parte che ti è bruciata morì ma nello stesso tempo diventi il lago sangue quindi magari ho fatto una bella rasatura poi così quindi vabbè amico mio lo so nulla decladante nulla de particolare sto video ma è relax vero e proprio infatti ho cercato di parlare più basso possibile senza acuti oh vedi qua qua non ce l'ho passata mi ripia in corpo non ce l'ho passata qua no non si è aperto ma qua si questa è una zona che io sto odiando perché ogni volta è merato qua mi sa per esempio ultimamente è così da quando mi sono tolta la barba allora spero che ti sia piaciuto sto video che ti sia rilassato insieme a me e come dico sempre ci vediamo al prossimo video quindi mazza c'è una fame buoni acquisti e buone sbarbate ciao da Luca ciao